Ma che tristezza le mele, ma con tanta buona frutta alternativa come i mirtilli del Perù, la papaya sudamericana, magari un bell'avocado spagnolo, perché mai uno dovrebbe ridursi a mangiare mele? Magari perché un consumo regolare è stato associato a una vita più lunga. Sì, ok, lo ammetto, si tratta di un'associazione non necessariamente di un rapporto causa-effetto, ok, peraltro di uno studio che si è concentrato solo su donne con più di 70 anni e quindi non necessariamente generalizzabile. Ciò nonostante, abbiamo tante altre ragioni per guardare alle mele con grande interesse e possiamo farlo appoggiandoci a una recente review che ha indagato tutta la letteratura disponibile su questo frutto un po' sottovalutato. La dose raccomandata di frutta e verdura, secondo OMS e FAO, è di almeno 400 grammi al giorno. 400 grammi al giorno, 7 giorni alla settimana, sono circa 3 chili di frutta e verdura. Vuoi dirmi che non trovi un po' di spazio per qualche mela alla settimana? Male! Se non lo trovassi, faresti male, perché come ci ricorda Wikipedia, la mela ha un potere antiossidante molto elevato, certamente con variazioni in funzione del tipo di mela considerata, ma perché contiene provitamina A, vitamine B1, B2, B6, E, C, acido citrico, acido malico, niacina, acido folico, insieme a flavonoidi e carotenoidi. E a proposito di tipo di mela, non credo di sorprenderti facendoti notare l'ampia variabilità del colore della buccia, è proprio il colore di frutta e verdura, è un aspetto verso cui ti invito sempre a porre attenzione, perché è indicativo delle sostanze contenute. Perché si dice sempre di consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, possibilmente di colore diverso? Perché colori differenti tradiscono la presenza di nutrienti diversi, che combinati tra loro ti permetteranno di beneficiare di tutte le sostanze di cui il tuo corpo ha bisogno. E allora prendiamo le mele. Tra le varie caratteristiche qualitative del frutto spesso è proprio il colore della buccia a determinare il successo commerciale di una cultivar. Mia figlia, ad esempio, predilige quelle rosse 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 rosse, e io per carità sono ben contento di accontentarla purché le mangi, e poi quel rosso suggerisce la presenza di preziose antocianine. Però attenzione, la polpa è gialla, quindi le antocianine sono prevalentemente nella buccia. No buccia, no antocianine. E sarebbe un peccato, non credi? Le antocianine o antociani che dir si voglia, sono un gruppo di flavonoidi considerati benefici per il nostro organismo grazie ai loro effetti antiossidanti, antinfiammatori, anti-invecchiamento, anti-radicali liberi e anti-rapina. Sì, ok, lo ammetto, forse l'ultimo è ancora oggetto di dibattito, ma chissà. Sai però qual è il problema? È che tanti la mela la sbucciano, perdendosi la possibilità di beneficiare di un miglioramento della salute delle arterie e di un abbassamento della pressione del sangue. Oh già, non ti avevo ancora detto, un regolare consumo, compreso tra 100 e 150 g al giorno di mele, è stato associato a un minor rischio di malattie cardiovascolari e una diminuzione di pressione arteriosa, colesterolo totale, colesterolo LDL, stato infiammatorio, nonché ad aumenti, del colesterolo buono e della funzione endoteliale. Funzione endo cosa? Funzione endoteliale, un termine forbito che puoi usare alla prossima cena con le amiche per apparire colta. Guarda, sospetto peraltro che nemmeno i ricercatori sappiano esattamente cosa voglia dire questo termine, ma che nessuno osi ammetterlo per paura di apparire ignorante con i colleghi. Comunque, diciamo, più o meno indica la salute dei tuoi vasi sanguigni, di cui l'endotelio rappresenta il rivestimento interno. Ma torniamo alla buccia, perché c'è uno studio interessante che ho scoperto grazie al dottor Greger che si intitola La mela ricca di flavonoidi migliora la funzione endoteliale negli individui a rischio di malattie cardiovascolari, uno studio clinico controllato randomizzato. È interessante perché si tratta di uno studio controllato randomizzato che permette cioè di ipotizzare un possibile rapporto di causa-effetto diretto, ovvero sostenere con ragionevole sicurezza che effettivamente una mela ricca di flavonoidi possa direttamente migliorare la funzione endoteliale. E qual è questa mela ricca di flavonoidi? Sarà una mela di una specifica marca, che ha pagato, che ha pagato lo studio di sicuro, che sia geneticamente modificata a questo scopo? No, no, la mela ad alto contenuto di flavonoidi era semplicemente una mela con la buccia rispetto alla mela a basso contenuto di flavonoidi che era esattamente la stessa mela, sbucciata. Obbliga con la forza 30 persone a mangiare mele tutti i giorni, ma a 15 sfortunati le sbucci. Sai cosa scopri? Che dopo aver mangiato le mele con la buccia i livelli di flavonoidi nel sangue schizzano significativamente nel sangue per tre ore, contribuendo così a un miglioramento misurabile della funzione endoteliale. E come fa notare il dottor Greger, non stiamo parlando di un estratto, non stiamo parlando di un integratore, stiamo parlando di un frutto intero. E a proposito della necessità di mangiare frutta intera, c'è un altro studio che a mio avviso merita di essere citato. Questa volta prendi i 23 volontari e li costringe a consumare per quattro settimane alternativamente mele intere, succo di mela limpido, succo di mela un po' più consistente e sansa. Se non ci riprendiamo il nord non saremo mai al sicuro. Io vorrei che tu mi aiutassi, ma lo farò da sola se necessario. No, non sansa stark. La sansa è sostanzialmente il residuo della polpa quando prepari il succo di mela limpido. È piuttosto sorprendente scoprire come cambia il colesterolo LDL a seconda di cosa mangi. Migliora del 6,7% con la mela intera, migliora del 7,9% con la sansa, migliora un pochino anche con il succo consistente 2.2, mentre con il succo limpido fai addirittura incontro a un peggioramento. Per onestà intellettuale devo aggiungere che non si sono rilevate variazioni significative su altri parametri ematici misurati, però ti faccio notare l'aggettivo usato significative perché in realtà numeri alla mano le differenze c'erano eccome, ma statisticamente non abbastanza robuste, forse anche a causa del campione di persone ridotto. Ma gli autori concludono che la componente fibrosa risulta comunque necessaria per l'effetto di riduzione del colesterolo delle mele e, ma questo lo aggiungo io, consumare centrifughe ed estratti non può quindi essere la stessa cosa di consumare frutta e verdura intere. Ma questi sono solo alcuni dei tanti benefici delle mele, frutti che ovviamente contengono palate di sostanze biologicamente attive con effetti benefici sulla tua salute. E altro fatto interessante, i principi attivi contenuti possono variare con il tipo di mela, rendendo una volta di più valida la regola che ci ricordiamo tanto spesso, varia il più possibile la tua alimentazione per beneficiare di più fiddocomposti possibile. O da un diverso punto di vista, non preoccuparti se le mele troppo dolci e croccanti non ti piacciono, perché potrai ruotare tra renette e altre mille varietà più morbide e acidule. Ma oltre a garantire un miglioramento della salute cardiovascolare, le mele sono studiate anche per numerosi altri possibili benefici, ad esempio sono state associate a una riduzione del rischio di diabete, peraltro hanno un buon indice glicemico sotto ai 40, ma anche di tumore alla testa e del collo, al fegato, alla prostata, al colon e al seno. E poi ho lasciato per ultimo il vantaggio più importante di tutti, le mele sono buone, ma mangiate in un bel porridge di avena caldo, con la cannella, diventano sublimi. Qualcuno una volta ha detto che arroganza è pensare di essere superiore agli altri, autostima e non sentirsi inferiore a nessuno. Ecco, la mele ai tuoi occhi dovrebbe godere di una grandissima autostima, perché non è davvero inferiore a tutto il resto della frutta più blasonata. Quello che vorrei che ti rimanesse è che ad essere vincente, come sempre, la combo di abbondanza di frutta e verdura e la loro varietà, senza ritenere che frutta e verdura della tradizione abbiano qualcosa da invidiare a ortaggi più esotici o addirittura costosi. Grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora, ciao! Grazie a tutti!